Vediamo se si accende la lamparina. Ma non ci credo. Ecco voi. Ma davvero posso trasmettere dal vivo? Ma che strana cosa. Secondo me si sono sbagliati. Secondo me si sono sbagliati. C'è qualcosa che non quadra, dai. Non ho i mille. O hanno tolto i mille, i mille cosi, o ma c'è, è che bisogna avere mille iscritti. Come si fa, dai. Ma no, ma no, ma no. Non è possibile. Ma posso anche fare una cosa di questo genere? Ma cos'è che era successo così? Ma pensate. Ma non ci credo. Ma posso anche scrivere? Cioè io potrei addirittura scrivere. Tutti i messaggi sono visibili. Sì. Salva momenti salienti.